dai faccia una foto con il panneton per la famiglia che si è stante dai prendi il panneton di mano perciò una foto beh Niccolò ormai su youtube è famosissimo eh una foto più una foto in meno non c'è chi è davanti alla luce ecco tu se le mutande marroni Cristian non è successo non è successo non è successo sì cosa hai fatto? Ho fatto cacca l'osso ahahah